Ciao a tutti, durante un progetto sulla postalizzazione digitale ho raccontato un articolo che ho letto sul Buddha's Brain. Il nostro cervello, di fronte ai pensieri positivi, è fatto come se fosse di teflon, il materiale che viene utilizzato nelle padelle antiaderenti. La positività, infatti, passa ma non si attacca, mentre al contrario i pensieri negativi restano avvinghiati al nostro cervello, come insetti sulla carta moschicida. Un commento negativo sul posto di lavoro, infatti, può annullare anche tutta una serie di feedback positivi. Attenzione quindi ai commenti negativi, che non siano costruttivi, perché hanno un impatto lungo e cambiano il vostro modo di agire. Lasciatemi qua sotto i vostri commenti, spero positivi, così ne discutiamo. Concentrazione, concentrati in azione!